Mi aspettavo di essere il primo a ricevere quest'atto e per l'ennesima volta lo leggo sui giornali. Spero che prima o poi io riesca a individuare questa manina o queste manine che sono così interessate allo spettacolo giudiziario. Francamente sono molto infastidito e troverò qualche iniziativa per mettere alla Berlina coloro e colui il quale organizza questa gestualità distributiva prima che l'interessato sappia e conosca. Detto questo mi sembra un'inchiesta che farà molta fatica a cercare di mettere in evidenza la distinzione tra verosimiglianza e verità e mi dispiace che farà molta fatica perché io penso che debba essere facile mettere in evidenza la verità. Io parteciperò anche a questo procedimento giudiziario versando in atti patrimonio conoscitivo e documenti nella speranza che trovino idoneità di lettura e di rilettura. Io penso che debba essere una garanzia del cittadino quando viene sottoposta ad accertamento conoscitivo che si leggano con attenzione tutti gli elementi. Parliamo di una concessione di l'inizia del 2012, del 2012 che non è esattamente il giorno corrente e parliamo di un'attività inibitoria per quanto riguarda le vicinanze del fiume che questa giunta e questa persona giuridica hanno stabilito come attività inibitoria. Dopodiché sono pronto a rendere ulteriore collaborazione affinché la complessità del diritto urbanistico e del diritto amministrativo trovino facilitazione di lettura. Presidente, poche ore fa è arrivato il pronunciamento del Tribunale dell'Aquila sulla sua presunta incompatibilità. È stato respinto il ricorso del Movimento 5 Stelle che però ha detto che andrà avanti. Io ho comprensione del Movimento 5 Stelle, non perdono occasione per radicalizzare il loro punto di vista nella lotta politica. I documenti, la giacenza anche della giurisprudenza, la lettura idonea del diritto fanno capire che un senatore della Repubblica è subiudice fino alla validazione dell'aggiunta delle elezioni. Io sto aspettando questo passaggio. Per il resto, in questo caso, non sono infastidito delle iniziative giusdicenti delle opposizioni. Diciamo che è un 30% della loro natura e delle loro attività.